Dopo questa esauriente risposta del nostro candidato, io credo che sia importante raccogliere il clima, lo sforzo che la sua creatività, che la sua capacità di fare e messa a disposizione di questa città diventino per me, per voi, importante. Importante perché ne potrebbe nascere in una città della comunicazione diversa, con le doti di forte capacità critica che un artista può mettere nella città, però servivano anche dei servizi stampa, uno staff, forse la possibilità di un incarico per me, comunque per noi nella città potrebbe esserci un'occasione. Io confido che la sua capacità di raccogliere l'umore della città, di fare vivere un tono, di conviviale, accettabilità, non legga questo come disperazione lavorativa, ma che ne pensa? Tu, 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 fedeltà, fedeltà, tu, tu con brillantezza, con brillantezza, tu con fedeltà, con fedeltà, sempre breve, tu sempre breve, breve, sempre breve.